musica 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 ehi come stai? che affare? che affare? che affare? dai, ancora dai stavo facendo uno scherzo stavo facendo uno scherzo stavo facendo stavo facendo uno scherzo stavo facendo uno scherzo stavo facendo uno scherzo stavo facendo uno scherzo musica 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 ragazzi sto facendo un video cos'è sta paura? musica 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 Vuoi una caramella? Non ti accettano le caramelle dagli sconosciuti Vuoi una caramella lei? No, ce l'hai per te Anche io No, non vuoi la caramella, non ho richiesto di me Pago? Si Sto andando a fare Ne vuoi altri? Sembra 8 euro Un secondo che li vado a prendere Cambi 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 Viam Cambi Angelo non porta di altri a sempre chiesto a portare ma non le piacciono le piagge di soldi no no questo qua mi piace va bene arrivederci e non mi ha fatto completare la scena però perché ero pochi soldi ho sbagliato non ho presi troppi pochi e la scena è venuta male perché non c'è nemmeno il tempo di mettere la musica del festeggamento ha capito hai registrato anche la sua cosa buongiorno ciao no non sono io tu ti sei comportata male con un mio amico l'hai visualizzato senza rispondere si infatti io ti ho buttato un po di zucchero per addoccetti e niente ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto qui troverete la mia canzone che è bellissima e infatti mi invito proprio a cliccare qua qua cliccate qua per favore e cliccate sulla campanellina in modo tale che vi spondano così gli accendi attorno alla campanella e ringrazio gabriele per essersi prestato a fare una scena nonché per essersi spaccato il mento cioè ho dato non me ne frega niente ciao